ciao ragazzi e ragazze video super impulsivo perché domenica e io ho deciso di starmene a casa per una serie di motivi inoltre ha iniziato a piovere luca è andato allo stadio vedere la partita io ho finito quasi tutti i lavori e ancora stirare ma lo farò magari più tardi ancora un pochino da stirare ho pensato siccome ho il forno acceso ho fatto tipo i peperoni grigliati ho ancora forno un po caldino voglio fare una torta è una torta che mi ha suggerito una ragazza che ho conosciuto qua tramite youtube i gruppi eccetera che elisabetta scarinci ciao e li ciao e mi ha fatto avere questa ricetta perché avevo visto forse a lei l'aveva fatta però poi c'era il forno che non andava quindi si era mi sembra bruciato o non aveva cotto non mi ricordo bene e quindi l'ho chiesto la ricetta e finalmente è venuta l'ora di farla e due mese che ho comprato gli ingredienti ma non l'ho ancora fatta allora vi chiedo scusa c'è la cucina ancora incasinatissima ecco qua c'è stato il pranzo della domenica non che abbia mangiato grandi cose però devo ancora finire ma volevo prima fare la torta e poi mentre dentro il forno finisco tutto allora vi dunque questa torta si chiama e qua c'è un lapsus è una torta di spoleto è famosa nel carnevale oddio non mi ricordo il nome lo metterò nel titolo che figure ovviamente seppure due mesi che ho comprato gli ingredienti non ho tutto non ho tutto perché non ho liquore all'amaretto anzi non so aspetta vado a vedere e no purtroppo non ce l'ho e quindi niente allora ingredienti 4 uova 300 grammi di amaretti farina 2 cucchiai zucchero 6 cucchiai 50 grammi di cacao amaro e uso questo della liga questo qua mezzo litro di latte fresco la buccia di un limone che io ho già graffiniato un limone non trattato possibilmente e mi sembra che ci sia tutto gli amaretti ve l'ho detto duetti allora dunque c'è due versioni che mi ha mandato elisabetta una quella credo tramandata dalla nonna la mamma ma ho letto tardi che ci andava poi il riso cotto e quindi ciao e mentre nella prima versione in quella un po più da 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 rivista c'era ci volevano tretti di amaretti ma io ne ho solo due etti tra l'altro ne mangiate già anche due o tre quindi ancora meno e quindi ho deciso di aumentare la farina e diminuire l'amaretto chissà cosa verrà fuori vabbè da cucina anche improvvisazione e praticamente userò quindi due etti di amaretti che è la confezione del lidl e un è un etto e 20 perché ho fatto calcolo e due cucchiai di farina sono 20 grammi di farina quindi io ho messo andiamo alla vediamo cosa ho eseguito finora quindi allora qua ho già messo le quattro uova e ho grattugiato il limone la scorza di limone poi ci metto il latte mezzo litro di latte io l'ho messo intero perché l'avevo preso apposta lo uso solo per i dolci intero e qua c'è il cacao lo zucch cacao amaro 50 grammi lo zucchero 6 cucchiai e 120 grammi di farina poi gli amaretti sono molto furba perché non potevo prima fritarli e poi mettere il resto l'ho dovuto li ho messi dentro una busta così li ho schiacciati abbastanza alla bene meglio ma perché voglio che resti qualche parte magari croccante quindi non volevo proprio sbricciolarli al massimo col mio peso comunque si sbricciolano che è un piacere colgo l'occasione per salutare Nicole Nicole è una ragazzina che adoro che si chiama al suo canale piccola chef principiante tra l'altro ho scoperto anche che suona il piano è carina è simpaticissima andate a vederla perché io me ne sono innamorata di quella di questa ragazzina e le ho detto che ma una cosa che penso davvero detto che se avessi avuto una figlia femmina se avessi mai avuto una figlia femmina mi sarebbe piaciuto averla come lei perché la trovo spettacolare questa ragazzina davvero lei fa le ricette fa dolci fa prevalentemente dolci mi piace però è molto è molto carina secondo me farà molta strada quella ragazzina lì su instagram e nicole se andate a cercarla ciao nicole ciao e dunque quindi qua ho messo tutto nicole non mi sgridare se non sono brava come te perché l'ho fatta un po' di solito sono un po' più precisa invece oggi va così vado a dare una girata con il robot dopo aver imburrato uno stampo da plum cake questo non è quello grosso e quello piccolino butto il l'impasto dentro eccoci qua forse questo è un pochino piccolo chi se ne importa non ho altre soluzioni ecco qua e adesso lo metto in forno 180 gradi 30 minuti a dopo allora eccoci qui la torta è pronta devo dire una cosa che io l'ho tenuta tra l'altro nel frattempo ho sentito anche elisabetta tramite youtube dunque dice 30 minuti la ricetta ma in realtà 30 minuti a me non era ancora solida nel senso era molto budinosa l'ho capito dallo stuzzicadente e quindi l'ho fatta andare ancora praticamente 20 minuti quindi in totale 50 minuti vedo che ancora un po' budinosa dentro però non importa mi sa che alla fine è quasi un'ora che va l'ho poi dai 30 minuti in poi copritela con qualcosa questo è il risultato l'ho fatta dentro la forma del plum cake ci metto un po' di zucchero a velo guardate ho messo anche a posto la cucina è il frattempo il lato cottura metto un po' di di zucchero a velo io lo metto ovunque lo zucchero a velo in qualunque in qualunque ricetta perché secondo me fa subito più bello e voilà guardate che meraviglia c'è un profumino adesso aspetto che si fredda e mi butto sul divano ad aspettare Luca ancora un'ora e mezza di tranquillità prima che arrivi e guardate un po' mi metterò questo profumino qui vanilla cake butter che ve lo dico a fare è meraviglioso una vaniglia al burro incredibile e ditemi se farete la ricetta o se l'avete già fatta se la conoscete se ho sbagliato qualcosa sicuramente sì ho fatto un pacciocco ho sporcato anche la tovaglia non avete idea ho fatto un disastro ci sentiamo presto un bacione ciao